Due anni a senso unico alternato, lunga attesa, ovvi disagi, il lieto fine finalmente all'orizzonte, il cantiere di Valle Grande, località Foce, territorio di Rocca San Giovanni sulla Stata Le 16, dove dal 22 febbraio 2021 un semaforo regola il flusso delle auto, si avvia finalmente alla fase finale, con lavori di consolidamento e ripristino strutturale del ponte a carico dell'ANAS, che entro le porte dell'estate saranno conclusi. Più volte i sindaci del comprensorio hanno manifestato disappunto e lamentele per i ritardi di consegna, con lunghe code e traffico in tilt, soprattutto nei weekend e in estate, quando la costa dei Trabocchi viene raggiunta da tutta Italia. Finalmente c'è ottimismo il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio. Come avete visto dalle immagini, il viadotto è finalmente in fase di conclusione, i lavori sono a buon punto, in attesa del Giro d'Italia. Ciò permetterà di rendere la viabilità fluibile, quindi evitando le code che abbiamo vissuto nelle stagioni precedenti. La collaborazione con l'ANAS è quotidiana, infatti avete visto anche il rifacimento del guardrail andando verso nord e verso San Vito e insieme agli altri colleghi sindaci siamo pronti per effettuare le operazioni di sfalcio e di pulizia con la provincia affinché quando arriveranno gli elicotteri tutta la costa sarà ben visibile e apprezzabile a tutti gli spettatori. Quindi cominciato il conto alla rovescia si accelera per risolvere ogni criticità? Assolutamente sì, la sfida è ardua ma siamo pronti e stiamo lavorando costantemente. Già domani abbiamo una riunione con la prefettura, quindi tutte le istituzioni sono la regione anche, quindi ci stiamo unendo per questo grande evento.